a meno che non avvengano fatti improvvisi, ma non la vedo bene perché abbiamo un ceto politico, poi il fatto che osino santificare Draghi è una vergogna assoluta, perché Draghi è una barca con le vele al vento, a seconda di come gira il vento, tutti si scordano e uno che assieme a Prodi ha partecipato alla liquida, non liquidazione, ma all'indebolimento dell'industria pubblica nostra. Ci sono una minoranza, una classe minoritaria che ha il controllo, possiede i mezzi di produzione, mentre l'altra per poter vivere deve vendere la propria forza lavorativa, l'energia lavorativa che è nel nostro corpo, nel nostro cervello, muscoli, eccetera. Il lavoratore che vende la sua forza lavoro riceve esattamente il valore, per lui il valore qual era? Ciò che è necessario ad acquistare i beni, i prodotti che servono alla sua sussistenza, non biologica, è storico sociale, per noi abbiamo una storia, però la sua sussistenza è quella determinata fase storica, naturalmente il prezzo, il salario oscilla, ma oscilla intorno a questo valore che è il valore mediamente è quello, ciò che serve a riprodurre il lavoratore con la sua forza lavoro. Dalla forza lavoro riceve in fondo il giusto prezzo di quella merce che vende, perché è una merce, ripeto, nella società capitalistica, però produce di più e chi si è proprio di questo di più, senza che effettivamente nessuno se ne accorga bene, nessuno si sente, anche se è usato quel termine sfruttamento secondo me che è stato infelice, perché è chiaro, sfruttamento sembra quasi quello del negriero con la frusta in mano che è un termine sbagliato, no, semplicemente ho detto produce più di quanto è necessario alla sua sussistenza storico sociale, riceve esattamente la sua sussistenza, lui produce di più, chi ha fornito i mezzi di produzione e ha messo in piedi quindi di fatto concretamente le fabbriche e tutto quanto, sia proprio del plus prodotto. Questa era la tesi principale. E qui, adesso, sulla base di questo, e qui non può, qui si occorrerebbe perdere troppo tempo, sulla base di questo è stata pensata, ripeto, la crescita all'interno della società capitalistica dell'embrione di una nuova società perché alla fine proprio la competizione intercapitalistica fa sì che si centralizzano i capitali, la proprietà dei mezzi di produzione si restringe in un gruppo sempre più ristretto di individui che si astraggono poi sempre di più dalla sfera produttiva e diventano quelli che noi chiamiamo spesso i finanzieri o questo, eccetera. Dall'altra parte, invece, si crea la cosiddetta, perché anche questa è una cosa che molti hanno dimenticato, che per Mars la classe operaia non è l'operaio di fabbrica, non è Charlot che avvita i bulloni, eccetera. È l'associazione dei produttori dal primo dirigente all'ultimo manovale o giornaliero, detto in termini scherzosi, da Marchionne fino a Ciputi. Questa è l'associazione dei produttori, con contraddizioni, Mars non sa che non sono mica, hanno livelli anche di reddito e quindi di vita diversi, quindi ci sono all'interno conflitti, ci sono le solite, l'attentativo fatto di scalata nella gerarchia sociale e anche produttiva, conflitti, ma di vari conflitti che hanno sempre gli esseri umani, lo sa benissimo, non pensava a una comunità di amore reciproco, ma non le sono cretinate, no, lo sapeva, però diceva, però sono in conflitto, ma sono tutti consci che loro praticamente producono questo plus prodotto in modi diversi, chi dirigendo e chi invece manovalando, e questo plus prodotto viene appropriato da quelli che sempre più si astragono dalla produzione, sono tipo quelli che controllano, mettiamo le società per azioni, i pacchetti di comando, eccetera, quindi tutto questo creerà alla fine un attrito sempre crescente tra queste due forze e alla fine l'associazione dei produttori, la famosa classe, quella che poi è stata sempre chiamata la classe operaia, intendendo sempre le tute blu, che è sbagliato, questa associazione dei produttori e alla fine chiederà la resa dei conti, quindi tenderà a riappropriarsi e qui si aprirà le due vie, una ho detto quella riformistica tramite le conquiste delle maggioranze parlamentari e l'altra che dice il Parlamento è una fucina di chiacchiere e basta, quel che contano sono gli apparati repressivi e coercitivi dello Stato dei dominanti e quindi bisogna andare giù, duro, insomma. Premazia, ripeto, non basta che se ne dica avere il controllo dei mezzi finanziari e del denaro, mi dispiace, ho detto quello che conta non è solo quello, contano anche, ho detto, le sfere di influenza e per le sfere di influenza contano gli apparati anche militari, gli Stati Uniti non hanno un'influenza nel mondo occidentale, hanno sempre avuto la preeminenza dalla seconda guerra mondiale, prima nel mondo occidentale, poi quando è crollato il polo socialista diciamo in tutta Europa, no. Politica e mediazione, un minuto, certo c'è anche la mediazione, è una delle mosse che si fa, ma la mediazione non è la mossa fondamentale, perché la so è che si tenta sempre di mediare, altrimenti come mai siamo arrivati nel Novecento, guardate che se uno studia la storia, che una volta l'avevo anche studiato, adesso sono anni, del periodo, ripeto, tra il 1870 e la primavera mondiale, cioè la corretta epoca dell'imperialismo e appunto della crescita di quello che è stato detto imperialismo e che ho detto era il multipolarismo, è che sì, è che era passata l'idea che l'imperialismo fosse l'ultima fase del capitalismo, invece no, è stata la fase multipolare, una delle fasi multipolari. Ecco, allora tra il 1870 e poi l'arrivo finalmente allo scontro, c'è stato tutto un continuo processo alla triplice intesa, alla triplice alleanza e poi si disfacevano e poi, insomma, è indubbio che c'è un periodo anche se vogliamo in cui quasi prevale l'aspetto mediatorio e anche di cambi spessi di alleanze per ricercare certi equilibri. Però questa mediazione sono sempre mosse strategiche che vengono fatte nel momento in cui ancora non sono pronti questi paesi eccetera per poi dire beh basta, ormai dobbiamo affrontarci e dobbiamo decidere per la supremazia. I dominati hanno cominciato a perdere nel momento in cui le loro, tra virgolette, organizzazioni si sono dimenticate del fatto che la politica è strategia per arrivare al potere? No, forse no questo, è che non hanno capito quello che Lenin ha capito ma non ne ha trattato appunto anche ancora una volta le conseguenze teoriche adeguate, cioè non hanno capito che le lotte che stavano facendo certe organizzazioni, parlo qua nel nostro mondo occidentale, anche con alle volte scontri, perché alcuni scontri sono stati anche violenti, ma ci sono stati anche morti per le strade in certi casi, adesso è un po' che almeno nei nostri paesi questo non avviene più, ma guardate che se andiamo indietro anche agli anni 60, 70, 80, lasciando stare per favore adesso il problema del cosiddetto terrorismo, ma anche nelle volte nelle manifestazioni eccetera, ci sono stati scontri mica da ridere con anche alcuni morti, con la polizia che sparava adesso, non scordiamoci, però mi dispiace queste lotte, malgrado tutto anche quale volte acute, soprattutto nella fase di, avviene nella fase soprattutto di crescita dell'industrializzazione di un paese, quindi effettivamente in quel momento di crescita e del passaggio dalle masse contadine alla classe, comunque ai ceti operai eccetera, questi momenti un po' duri, sembra che ci sia, ma sono nonostante tutto lotte che Marx diceva erano quelle distributive, non lotte di cambiamento dei rapporti di produzione, cioè non avviene cambiamento delle classi al potere dei gruppi sociali, sono distributive, cioè sono lotte per redistribuirsi il prodotto in modo meno favorevole a certi gruppi e più favorevole ad altri, per cui è chiaro che per esempio alle volte anche i sindacati operai ottengono dei successi e allora c'è una parte del prodotto che va a aumentare i salari, magari può diminuire i profitti con la reazione, però che appena diminuiscono i profitti nel sistema capitalistico c'è la reazione del capitale che investe di meno e comincia a produrre di meno, quindi si crea disoccupazione e quindi… E quindi poi interviene pure la finanza come fenomeno di conflitti più profondi… Eh beh, quello per forza perché poi noi compriamo tutto con il liquido, sì, insomma con il liquido, il facente funzioni del liquido, non c'è il baratto, non è finito il baratto e quindi è chiaro che chi controlla la moneta o comunque, ripeto, non la moneta, solo quella che abbiamo in tasca, dico, i liquidi, insomma tutto, insomma certo, non è che non abbia importanza, l'importante è non credere che comandi tutto lui, ecco questo è il problema, ecco, ma è chiaro che fornendo dei mezzi di simile rilevanza non può non avere anche un influsso, questo è chiaro, non ci mancherebbe altro. Andando avanti in questo modo, il conflitto è sempre tra gruppi sociali, ci sono più soggetti in conflitto, questo è il problema, non è un conflitto dicotomico, bello, chiaro, no, per il momento è un conflitto, sì, anche all'interno, anche all'interno di una certa società è multipolare anche quello, come quello diciamo mondiale. Poi, ripeto, come nel mondo alla fine ho detto, si creano i due poli, ma si creano nel senso che si raggruppano, no, certi stati si alleano e alla fine, per lo scontro non può essere ognuno contro tutti, quindi alla fine si alleano, eccetera, probabilmente avviene anche poi alla fine, anche all'interno di una società. Il conflitto strategico che dico io, questo momento multipolare, eccetera, probabilmente si andrà raggrumando, eccetera, e poi può arrivare. Ma non con… in massa era proprio che le due classi diventavano relativamente omogenee fra loro, una che era proprietaria dei medi di produzione e dall'altra parte dal primo dirigente all'ultimo manovale, sì con conflitti interni, ma insomma con una certa omogeneità e una certa… E poi in tutto il globo. E poi in tutto… e beh, quello sì, si fa l'altro… In maniera uniforme tra l'altro. Eh, questa è un'altra cosa fondamentale, perché nessuno ha capito da cosa nasceva l'idea dell'internazionalismo proletario. Marx ha vissuto la prima rivoluzione industriale, che era quella inglese, e quindi ha vissuto il capitalismo inglese, e ha creduto… Era realistico dal suo punto di vista, era lì, e quindi ha pensato che quel capitalismo si estendesse a macchia d'olio. Allora, estendendosi a macchia d'olio, Campianino in tutto il mondo, insomma, perlomeno, perché lui pensasse proprio… Beh, insomma, nei paesi fondamentali, eccetera, veniva quel famoso raggruppamento proprietari assenteisti, eccetera, da una parte, dall'altra parte i proletari, sempre quell'associazione dei produttori, ma uguale in tutto il mondo, non so come dire, e quindi travalicando i confini, le frontiere, eccetera, e invece questo poi, no, mi dispiace, non è avvenuto così. Grazie! 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 Grazie a tutti.